Salve amici del Centro Meteo Italiano, serie di video dedicate esclusivamente alle uscite del modello europeo che ci potranno fornire delle indicazioni sull'evoluzione meteo della prima metà del mese. Settimana tra il 7 e il 13 settembre che dovrebbe vedere clima più caldo in Italia grazie all'espansione dell'anticiclone. Non si esclude comunque il transito di una saccatura atlantica che potrebbe muoversi sull'Europa occidentale portando un peggioramento meteo anche sull'Italia special nord. La settimana tra il 14 e il 20 settembre potrebbe vedere invece condizioni meteo sempre più autunnali sull'Europa con la presenza di una vasta depressione sull'Atlantico, temperature sottomedia sull'Italia centro-settentrionale e precipitazioni in media anche poco sopra. trattandosi comunque di proiezioni seguite tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.